Ancora un mese di tempo per consentire al neossessore alla sanità Nicoletta Veri di affrontare la questione. Se nulla dovesse accadere, scattano le denunce. Domenico Pettinari torna sulla vicenda per certi aspetti paradossale dell'heliport all'ospedale Santo Spirito di Pescara, praticamente inutilizzabile, dopo che anni fa si è pensato bene, con un nuovo bando di gara, di acquistare un heli soccorso di 4,8 tonnellate per un heli superficie che ha invece una capacità di 3,5 tonnellate. Per risolvere il problema se ne è creato di fatto un altro, perché l'heli soccorso in questo modo atterra all'aeroporto dove trova un'ambulanza che alla regione costa 3.800 euro al mese, più 39 centesimi a chilometro. Soldi spesi bene, ma che tuono a Pettinari. L'ambulanza non è medicalizzata ed è costretta a far salire a bordo il medico dell'heli soccorso, che così non può rispondere ad altre eventuali chiamate. Tutto questo costa alla regione, euro più euro meno, 48 mila euro l'anno. Fino ad ora ne ha già spesi 96 mila e se le cose non cambiano ne arriverà a spendere a fine 2019 quasi 145 mila. Molto più economico sarebbe stato, spiega ancora Pettinari, metterà a norma l'heliporto della Santo Spirito. Con 130-140 mila euro si mette a norma l'elisuperficie e si consente appunto di riatterrare a fianco al pronto soccorso di Pescara, risparmiando tanti minuti. Con i soldi che spendiamo, che si spende, che la sanità spende per il trasporto, si sarebbe già potuto mettere a norma l'helisuperficie. Ecco, io ritengo che questa sia una cosa gravissima. Intanto uno sperpero di denaro pubblico, ma non solo. E si spendono molti minuti in più rispetto a quelli che dovrebbero essere impiegati per trasportare il paziente. Un ringraziamento particolare all'equipaggio che svolge un'attività veramente eroica, perché sono persone che rischiano anche la vita, l'abbiamo visto qualche mese fa. Un appello, il nuovo presidente di regione, l'assessore regionale della sanità, si attivino immediatamente per disporre la messa in sicurezza dell'elisuperficie e far tornare a funzionare il servizio di soccorso in emergenza, soprattutto per le aree interne, perché l'elisoccorso serve per le aree interne.